Ci troviamo in un momento che la condizione atletica non può essere quella ottimale, soprattutto non può essere quella che può affrontare tre partite in una settimana. Noi abbiamo anche l'esigenza di conoscere i nuovi arrivati, di metterli nelle condizioni di poter farsi conoscere, quindi ci stavano diverse esigenze per cercare di fare turnover e penso l'abbiamo fatto, ma l'abbiamo fatto anche abbastanza bene. È chiaro che siamo molto amareggiati per il risultato. Tuttocuo è una squadra che secondo me è sulla falsariga dell'Ancona, perché comunque troveremo un modulo di gioco speculare, troveremo una squadra molto aggressiva, una squadra giovane che corre tantissimo, ha due buoni attaccanti, quindi è una partita comunque da affrontare con la massima cattiveria. La squadra è un'altra cosa che ho chiesto per quanto riguarda la partita di Ancora, ma l'avevo chiesto già dopo la partita di Savona, è quello di alzare molto il livello della convinzione della cattiveria in campo, sono tutte le cose che devono fare. L'anno scorso contro Bucarelli andò male? Guarda, noi l'anno scorso andò male, però da lì poi facciamo quello che dovevamo fare, quindi vediamo se si ripete la stessa cosa, perché Luca Lerri è un allenatore molto molto preparato, io l'ho trovato lì ad Ancona, l'ho trovato ad Empoli, sempre in fase di aggiornamento, quindi è uno che ci tiene a migliorarsi, a far bene, ha avuto questa possibilità quest'anno, lì a tutto cuoio, secondo me preparare la partita nel miglior modo possibile.